Musica Taglia Metti il pezzettino dopo Via Ok Ora un tocco di colore Ma perché dicono Allora io poi io crede che sia la località In questo caso Perché se mi dici un cavolo Di ombrello marrone me lo metti viola Se mi dici un secchio di vernice verde Verde e me lo metti Viola ma che problemi ci avete Giulia intanto io manco Ti stavo ascoltando perché Non me ne frega un cazzo di quello che dici Come al solito sei inutile Ai fini della trama ai fini del gioco ai fini della vita Non vedo l'ora che Giulia prima o poi Muoia per un qualsiasi tipo di motivo Eh beh certo giustamente Perché voi non state parlando americano È vero l'inglese e l'americano Sono due lingue diverse Allora È palese che io debba Già salire là sopra Ma Per mailman Come si svolge la cosa Non ne ho idea Allora Qui intanto vediamo Un classico Bread and breakfast Inglese Vicino a un pub Che serve Birra calda Guarda quanti pub Tutti uguali E Sì Credo Credo che l'unica opzione Sia salire sui tetti In tutto questo tra l'altro Stavo notando Che ci mancano ancora 10 di legno Ma Qui Di legno Io ne ho visto veramente poco Guarda Come i Beatles Prendiamo altro tè E niente Direi già di salire allora sul tetto Visto che In teoria Mi sembra di vedere Che qui sulle strade Non c'è nulla da fare E Come ho detto Legno Io Non ne vedo Cioè Guarda ci sono una Due teiere Tre teiere Forse anche quattro No solo tre Ma di cataste di legno Ma No aspetta Ti prego non dirmi che c'è un muro invisibile Ti prego Non dirmi che c'è un muro invisibile Voglio Voglio farmi investire No dai No 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 Scusati Levati dalle balle Melman Ma neanche in giochi brutti Ma davvero Allora Lasciando perdere il fatto che Se ti metti in mezzo Non si ferma Un solo pullman Ma si fermano Tutti i pullman Questo è il meno del meno Ma La galleria dove fanno il giro Tornano e vanno No dai Ma neanche lo scazzo Ma ti prego E comunque dobbiamo arrivare qui No vabbè dai Mamma mia La La monnezza proprio Santo cielo Ma legno comunque davvero Zero Intanto facciamo salire Marti qua sopra Cioè veramente Ma neanche nei giochi Creati dalle case Di sviluppatori Circensi Ok Questa me la son meritata Questa me la son meritata Perché volevo salirgli sopra Aspetta 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 No ce l'ho fatta Vaffanculo Londra Vaffanculo Ce l'ho fatta Io ti ho fregato il sistema Cioè neanche Veramente Nelle case di sviluppo Quelle Degli scantinati Scusami Dei paesi bassi Ma proprio Dio mio Così va meglio Dio mio Ma sul serio Io continuo a fermare Il traffico londinese Che Santo Dio Poi come sempre Nelle aree in cui Grosse In cui in teoria Non devi venire Come questa zona qui Dove c'erano le fontane Dell'altra volta In queste zone qui Quei non sono programmate Nella missione Non c'è nessuno Non ci sono le guardie Non ci sono persone E se ci sono Appaiono dopo Santo Dio Guarda Melman Facciamo una cosa Torniamo in zona missione E completiamola Per favore Va bene Marty Iniziamo La nostra scalata Prima che la mia sanità mentale Cali a dei livelli Ma proprio magistrali Per favore Comunque questa pedana È sprofondata nel terreno Allora Giù una E giù Due Ok Melman Puoi finalmente salire anche tu Eccomi Marty Comunque Grande Allora Dove dobbiamo proseguire? Verso l'alto È sempre la soluzione migliore Grazie Come se ci importasse Effettivamente che Julian Impazzisca per qualcosa Non è che manca una rotella Manca proprio tutto Eh lo so Aspetta Marty Ci vabbè dai Allora Con calma Tu Devi salire di qua E speriamo che qua sui tetti Si trovi un po' più di legna Perché come ho detto poco fa Fino ad ora Ne ho trovata veramente poca Con quel pezzettino che abbiamo trovato adesso Ne abbiamo trovati sei Tu Marty Dov'è la pedana? Eccola Eccoti Allora La cosa bella è che A Londra La maggior parte delle missioni Che stiamo facendo Sono tutte sui tetti Tutte in alto E comunque Eccoli un altro pezzettino di legno Dove devo proseguire? Come Devo andare di là? Mi stai chiedendo questo gioco? Credo di sì Però c'è l'antenna Non ci arrivo Se scommettessi Direi che è da quella parte Se scommettessi Io non avrei mai creduto Che tu già l'avresti fatta Che giuro Giuro E non so neanche se in teoria Avremmo dovuto passare A questo punto C'era la Come si chiama? Un po' instabile Che cosa posso dire? Quel ricco Sa di certo Il fatto suo Ah beh Certo Giustamente C'era la L'antenna parabolica Nel mezzo Io Ah ecco come avrei dovuto passare Come stavo dicendo Io Non ci avrei mai giurato Che saresti passato di qua Giuro E sono Abbastanza certo Che ci siano degli oggetti Lì che ho missato Tra cui potrebbe esserci Del legno E lì c'è una tagliera E invece no Mi sa tanto Che quegli oggetti Che sono di qua Ormai sono perduti Sono perduti Insieme alla possibilità Di proseguire Oh Oddio Meno male Cioè se c'era del legno Lì Cosa che ho visto Tanti cari che saluti E ho dimenticato La tagliera Là sotto Eh vabbè Amen Ok Marty Proseguiamo Per favore Prima che Io Crepi E a proposito Di proseguire Proseguire Dove Marty Basta che salta Melman Melman come Ah ecco Ti prego Eh sì Direi di sì Allora Aspetta Ah proprio Lì sta Por Guarda Mi sto zitto Perché È meglio così Guarda Non dico Non dico nulla Ma proprio Non dico nulla Per non dire nulla Veramente Credetemi Spero di non beccarmi Un raffreddore Spero di morire Scusami Forse sto esagerando Melman Però santo Dio Anche tu eh Fai parte di un gioco Che veramente Sì Proprio Sul limite Del bordo Fai parte di un gioco Che veramente Mi sta Mi sta dando All'isteria Ed eccoci arrivati A La pittura Che colore era Tra l'altro Sta pittura Era Non me lo ricordo Neanche più Mi serve un'ultima Teiera Mi manca un'ultima Teiera Quindi ti direi Marti Se per te è una possibilità Tutto ciò Di tornare indietro No non è una possibilità Perché Mi basta scendere qui Stavo pensando già A un giro Iper lungo Io bastava scendere Ce l'avevo lì E comunque mi manca Il legno In tutto ciò Mi manca ancora Il legno Ed eccoci qua Missione Campiuta Mi manca un'ultima